Sono proprio qua, di fronte al furgone blu della Yamaha Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Passione Moto Io sono Enzo e dietro c'è Graziella Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi sul canale Passione Moto Sì, ma c'è la telecamera, vuoi guardarci dentro Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non sto tenendo Comunque, come potete vedere siamo di iniezione autostrada Iniezione autostrada è una stupidaggine Stiamo prendendo l'autostrada per la solita Gravellona Torce Per dirigirci in un posto un po' particolare Me l'avete già visto sul titolo Perci fermiamo a prendere il bigliettino Che ne dite? Piacenza o Perino? Eccoci qua ragazzi, siamo sull'autostrada Bene, dato che l'autostrada è un po' noiosa Stacchiamo le inquadrature, stacchiamo le telecamere E ci vediamo a destinazione, all'uscita del casello A dopo! Ragazzi, ci stiamo avvicinando a Fossano Fossano, come avete visto già nel titolo, c'è in grado 1 Ora, la giornata non è stupenda Siamo per via Alessandra con 7 gradi Qui ne abbiamo 10, quindi non è che ce ne siano molti di più E niente, avviciniamoci, seguiamo i biker Davanti abbiamo un gruppetto di colleghi Che saranno andando tutti alla stessa direzione Anche perché qui oggi ti è mortato di moto Quindi penso vadano tutti nello stesso posto Bene, bene, la strada inizia a essere anche leggermente più interessante Vedo, anche perché siamo usciti dall'autostrada E ci stiamo avvicinando Vedo che scaldano le gomme Stiamo avvicinando a qualche furvetta Vediamo, vediamo Qualche tornantino sentito semplici E ci stiamo avvicinando Allora, ragazzi, siamo arrivati a Fossano Ci siamo fermati in un bar a prenderci un caffè Moto a go go Ragazzi, fantastico Ora ci direggiamo in Piazza Diaz E andiamo a vedere che cosa c'è Bene, partiamo Ci sei Grazella? Ci sono, ci sono Vorresti Ti vorresti liberare Mi dispiace per te Va bene, dai, andiamo Carina Fossano Ci vuole anche di gente Guardate, ragazzi Adesso non so se si vede Nella telecamera Ma stiamo registrando Guardate là davanti Che cosa c'è Non potete vedere Allora Così C'è anche il Fium Bar C'è anche il Fium Bar Civili? Civili? Allora Io qui spengo Benissimo, ragazzi Ci mettiamo in abiti civili E proseguiamo Devo dire che siamo tanti Non so se si sente L'audio sarà quello che sarà Perché c'è un rumore infernale Proseguiamo C'è un rumore inferno Gioretto qui in mezzo Vi faccio vedere ancora Qualche esemplare Laro E poi Andiamo a cercare Di mangiare un boccone Allora Io Sono Sono proprio qua Di fronte al furgone blu Della Yamaha Sì Sì Ok Ciao Piacere Ciao Non avete parlato Delle immagini Sì Tranquillo Io mi sono messa la maschera Tranquillo Ragazzi Pasqua Eh Mi sono girata Pasqui Un iscritto Fa grandissimo piacere Piacere Grazie Grazie Anche per noi Adesso però spegniamo Facciamo un quattro Piacchiere privato Oh Dai Non vedelo Va bene Ciao 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 Grazie Ciao Bene Abbiamo concedato I ragazzi Iscritti Noi proseguiamo Le notte Oggi Andiamo a vedere Un po' di bancarelle Un po' di scioppe Un po' di scioppe Un po' di scioppe Proviamo in questo bar Tutto il resto Dei bar Di Quindi Fossano Sono straccolini Quindi Il bar Iniziale Ne vediamo Un po' di scioppe Prego Buonissimo E data Occiopo Maggio Dovamo V тебя D grain Tu galdi D κά Это Fanno, fanno, salutare, salutare, ciao! Non può mancare il dolce? No. Torta e limone e cioccolate. E dopo, seffè, ci prepariamo? Andiamo a fare anche un giudizio di ride bike, un collettivo, e poi si rientra a casa. Ci vediamo dopo. Ragazzi, vi voglio far vedere questo bar qua, perché chi viene il prossimo anno si mangia benissimo, bar Viale, e si mangia bene, i prezzi sono contenuti e, devo dire, è un'accoglienza fantastica, veramente, i perpettinoli sono veramente carini. Quindi, torniamo, diciamo, in centro, verso il Piazza Diaz, verso il Raduno, ci guardiamo ancora qualche esibizione, magari ci vediamo qualche... troviamo ancora qualche scritto e poi direzione carica. Ragazzella ha visto... qualche... Un tappeto kitsch. Cos'è che hai visto? Un tappeto kitsch. Guarda che forte. Vabbè. Un maculato, è kitsch. Non c'è entro niente corretto, non l'ho rispettato. Oh, vabbè, io guardo tutto, non solo le moto, tu guardi solo le moto, non hai più, guardo tutto. Anche quello che è kitsch e quello che non è kitsch. Eh, va bene. Proseguiamo. C'è qualcuno che ti è indossato? Ma vi voglio sentire! Grazie! 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 Bene ragazzi, ci lasciamo al motoraduno alle spalle, ci dirigiamo verso casa, che dire? Che è stata un'ottima giornata, bello, anche se è peccato il tempo che è un po' velato, ma diciamo che non ha piovuto, quindi tanta roba. Bene ragazzi, se vi piace il tuo video, logicamente, un bel pollicione in su. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti del caso, vedere un po' di nostre pazzia e non ci rimane di salutarvi tra il rombo di questi motori. Al prossimo video! 5 Ciao! 5 avvi me! a a a a Grazie a tutti.